Il gioco sembra che sia già disponibile per giocarlo, per testarlo, così che i giornalisti possono giocarlo e farci in futuro anche una sorta di recensione, ma che al momento sono sotto un determinato accordo che non li permetterebbe di parlare con nessuno riguardo al gioco. Benvenuti ragazzi in questo nuovo video, io sono Xstarter e oggi andremo a parlare di Bully 2, Cane Scane Edit in italiano, è un nome molto strano. Ad ogni modo ci sono novità riguardo a questo giocone qui che onestamente io non ho giocato, ma ultimamente ho comprato, ci ho fatto qualche partita e mi è sembrato abbastanza divertente, mi aveva preso abbastanza. Quindi capisco bene le persone che ci sono affezionate a questo gioco, chissà quanti di voi sono cresciuti con questo giocone e gli è piaciuto un sacco. Secondo alcune indiscrizioni ci sono dei leak e delle informazioni che possono farci pensare che il gioco sarà annunciato a breve. Dopo questa piccola introduzione andiamo a vedere nel dettaglio cosa sappiamo, ma prima vi chiedo di lasciare un bellissimo like a questo video e iscrivetevi al canale, se non siete già iscritti così da non perdervi i prossimi video, fatemi sapere qui sotto nei commenti quanto ci tenete a vedere un Bully 2 e quanto ci metterà Rockstar ad annunciarlo e a farlo uscire. Da quando era uscito GTA 5, prima ancora che si sapeva di Bully 2, che si sapeva di un prossimo gioco o della trilogy, dissi ai miei amici che prima di uscire GTA 6, Rockstar sicuramente avrebbe dovuto far uscire qualche altro gioco, che ne so, un Max Payne nuovo o un Bully 2 nuovo appunto. Ed infatti era uscito un Red Dead 2, ma a quanto pare probabilmente prima di GTA 6 uscirà qualche altro giocone da parte di Rockstar. Proprio perché secondo me Rockstar non vuole basare tutte le sue entrate, tutte le sue speranze su un singolo gioco, è naturale. Quindi è normale che probabilmente uscirà qualche gioco prima di GTA 6. E perché proprio Bully 2? Beh ci sono alcune informazioni a riguardo. Iniziamo con un articolo vecchio del 2 maggio 2021. Nonostante nel 2017 mi sembra che appunto lo sviluppo di Bully 2 è stato abbandonato, al quanto pare sembra che sia stato ripreso poco dopo. Infatti Rockstar ultimamente ha aggiornato il marchio di Bully, ovvero nel database degli Stati Uniti, dove appunto c'è l'ufficio brevetti, marchio, registri, usa, insomma cose che non ci interessano, ma solo per farci capire che effettivamente Rockstar ha aggiornato il marchio e se aggiorna il marchio vuol dire che nessun altro può creare un gioco che si chiama Bully. Vuole in un certo senso proteggere i suoi contenuti naturalmente e ci fa pensare anche al fatto che Rockstar voglia continuare questo gioco. Al tempo, allo stesso momento, Rockstar ha annunciato che aveva bisogno di Game Tester. Tramite proprio i suoi canali ufficiali ha detto che ci servono Game Tester. A quel punto inizierei a pensare che non si trattava di Bully 2, ma probabile di GTA Trilogy. Ma a quel punto dico, ma GTA Trilogy non l'hanno mica testato, è uscita una merda. Fino ad oggi, anche se come detto prima, Bully 2 sembrerebbe essersi fermato nel 2017, probabilmente è stata semplicemente una pausa nel 2017 che Rockstar si è presa per potersi concentrare di più su alcuni giochi che già possedeva e che stavano per uscire. Come appunto Red Dead Redemption 2, che è uscito nel 2018. Ma una volta che, diciamo, si è stabilizzata la situazione, sono sicuro che Rockstar si è messa a lavoro su Bully 2. Infatti, ultimamente, a partire dal 13 dicembre circa, Rockstar Games è stata presa di mira dagli insiders e giornalisti di videogiochi. Infatti, Tom Anderson, un noto insiders, leaker, quello che è, si è rivelato anche molto affidabile negli anni. Secondo Anderson, doveva essere annunciato Bully 2 ai Game Awards. I Game Awards sono una cerimonia annuale dedicata alla premiazione dei migliori videogiochi di quest'anno, appunto. Perché dice questo Tom Anderson? Perché, a quanto pare, è stato presentato del materiale, o comunque il gioco, a porte chiuse a qualcuno. Questo perché? Perché Rockstar, naturalmente, deve, insomma, creare un po' di hype. Non tanto tra i videogiocatori, perché lo vuole tenere nascosto, perché era ancora più hype dopo, ma tra i giornalisti che possono provare il videogioco a porte chiuse, ma che sono sotto un contratto NDA, che significa, insomma, non puoi parlare del videogioco. Questo lo andremo a vedere un attimino dopo. Voglio intanto specificare, come ha fatto Tom Anderson, che queste informazioni sono molto sfocate e che quindi bisogna prenderle un attimino con le pinze, ma io sono abbastanza convinto e ottimista riguardo all'uscita di Bully 2, secondo me, l'anno prossimo. Proprio perché l'ultimo periodo per Rockstar Games è stato un po' devastante per la sua immagine con GTA Trilogy, che è stato fortemente criticato, quindi deve recuperare un po' di terreno e di affidabilità con un altro gioco, prima ancora che faccia uscire GTA 6. C'è un misterioso progetto che è in sviluppo da un paio di anni presso Rockstar Games India. Dovete sapere che Rockstar Games non ha solamente una sede. E stando quanto è emerso dal curriculum di un animatore 3D, Kaushal Puneta, non so nominarlo, comunque uno sviluppatore del luogo dell'India, sul suo curriculum ha inserito che appunto lavora per Rockstar dal 2019 e sta lavorando ad un gioco che scrive Progetto Segreto, perché naturalmente non può dire il nome del gioco. Si sta occupando di creare delle animazioni dei personaggi e qualche asset. Asset sarebbero degli oggetti, come una sedia, un tavolo, una luce. Questo rumor di Tom Henderson è stato confermato da Chris Klippel, che io non conosco come voi sicuramente, che è un giornalista francese, fondatore di Rockstar Meg e Naughty Dog Meg. Da quello che ho capito il suo magazine è incentrato su appunto i giochi di Rockstar e Naughty Dog. Ad ogni modo Klippel, rispondendo a un DM su Instagram a non so chi, ha confermato in sostanza che una demo giocabile di Bully 2 è stata presentata prima dei The Game Awards, quella che abbiamo citato prima, e che il gioco probabilmente poteva essere anche mostrato durante l'evento, ma l'annuncio è stato posticipato per cause ignote. Chi è stato presente a quella mostra di Bully 2 a porte chiuse, dove nessuno, nessuno deve parlare, nessuno deve dire informazioni riguardo a quel gioco, sono sotto un accordo di riservatezza. Vuol dire che non possono dire niente di specifico. Rockstar Games lo fa appunto per impedire la circolazione di leak, ma nonostante questo Game Informer, che è una rivista statunitense fondata nel 91, quindi pensate quanto è vecchia, ha anticipato la notizia a riguardo. Il fondatore di Rockstar Meg, quindi Klippel, ha contattato un altro cristiano, vedete che giro di parole, Jason Scherer, beh non lo so nominare. Lui è un giornalista che si occupa sempre dell'industria di videogiochi e ha lavorato come giornalista anche all'interno di Kotaku. Kotaku è un sito anche affidabile per quanto riguarda informazioni sui videogiochi e che infatti aveva fatto trapelare qualche informazione su GTA Trilogy e che poi è stata anche confermata. Quindi ci sono in ballo tanti cristiani molto affidabili che si parlano tra di loro e dicono informazioni su informazioni e in sostanza Klipper ha chiesto informazioni a Jason e Jason rispondendogli è stato molto evasivo nelle sue risposte. Probabilmente perché sotto NDA, sotto accordi di riservatezza, secondo appunto l'ipotesi di Klipper, ma non ci vuole un genio al riguardo, cioè voglio dire, perché le cose o le sai o non le sai e se sei evasivo le sai e non le vuoi dire. Quindi ora come ora gli insiders, i leakers si suddividono in No, è stato cancellato nel 2017 e Bully 2 è morto oppure Bully 2 c'è, non ce lo stanno dicendo perché naturalmente deve essere annunciato quando è opportuno. Queste sono le informazioni riguardo Bully 2 che non sono neanche poche ragazzi se ci pensate perché come vi ho detto ci sono insomma troppi giri, troppe persone importanti che si stanno muovendo e appunto secondo questo accordo di riservatezza molti non dovrebbero parlare. Io credo che un Bully 2 non debba essere un free room un po' come GTA e Red Dead. Deve avere una determinata mappa, deve avere un determinato gameplay che si basa sulla scuola, sui problemi di ragazzi, adolescenziali e quant'altro. Tutte queste cose qui. Quindi non debba avere violenza o violenza grave quantomeno, quindi armi e tutte queste cose qui ma deve essere un gioco importante e molto definito, molto dettagliato in quello che va a cercare di trasmettere. Per esempio in Bully, nel primo, c'erano un sacco di minigiochi e un sacco di cose che ti permettevano di potenziare il personaggio se non mi sbaglio. Appunto non deve pensare che ora che ho l'hardware potente posso creare una mappa gigantesca, posso creare quello che voglio. No, perché preferire vedere metà mappa di GTA in Bully 2, ecco, è piena ma piena di contenuti. Proprio perché appunto in un gioco del genere non si ricerca la libertà di fare quello che si vuole. Si deve giocare il gioco a pieno. Lo dico io che non ci ho mai giocato a Bully, ho fatto solo qualche partita, ma ho più o meno capito l'andazzo del gioco, ecco. Figurati se una persona, un fan di Bully, non la pensa come me. Poi è, per carità, ognuno ha le sue idee, quindi fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti e fatemi sapere che cosa vorreste vedere voi in Bully 2. Detto questo ragazzi, non ci sono altre informazioni, spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un bellissimo like, mi raccomando, iscrivetevi se non siete ancora iscritti e noi ci vediamo al prossimo video!